ciao patricia buongiorno tu sei una giramondo tu vivi a padova da 15 anni ma prima di farlo hai fatto un sacco di esperienza e io prima di tutto sono nata in nigeria i miei genitori sono nigeriani tedeschi e quindi dopo la mia nascita in nigeria ho dovuto tornare in germania dove sono cresciuta dove sono andata a scuola ho fatto l'università e da lì poi per la mia formazione professionale ho fatto tutto sono stata molto fortunata a girare tanto nel mondo si ho imparato un sacco di non prima di tutto di non avere paura di niente ogni città mi ha insegnato una cosa mi ha insegnato di vivere questa esperienza anche come si può dire come come se fosse una persona ogni città ha un'anima personalità e dove ti sei fermata qua a padova che anima a padova padova è molto bello perché prima di tutto devo dire che amo gli italiani perché sono veramente dolci di anima e quando sono arrivata qua io ho anche trovato la mia famiglia ho creato una nuova famiglia e mi sono sentita con me in una grande famiglia da quando sono in italia io ho cominciato a dedicarmi veramente all'apertura all'inizio non ho cominciato con lo scopo di avere un concetto però ho capito che dipingo sempre le stesse cose mi sono naturalmente questa perché si vedono sempre le città alla sera e questo secondo me è perché questo è la frequenza il momento con cui io personalmente mi posso come dire mi posso proprio identificare perché per te l'arte importante perché ci dà l'opportunità di collegarci con un'entità superiore e questo è molto importante soprattutto in questi giorni grazie buongiorno mattina grazie buongiorno mattina vi aspettiamo in galleria sanferno 51 a padova e la mostra sarà visibile integralmente fino al 15 aprile ok ave la frustrazione att destina